Per il 2021 l'amministrazione comunale di Sava insiste sulla promozione e il sostegno alla cultura. Dopo la convenzione stipulata con il cinema Salerno, questa volta si punta due poli museali per poter strutturare una programmazione vera e propria che provveda ad esempio aperture settimanali straordinarie, visite guidate, promozione della cultura ecologica e mantenimento dei reperti. Peraltro a breve sarà consegnato il nuovo museo etnografico presso il palazzo spagnolo Palma che assieme alle altre strutture savesi come il vicino museo dell'olio daranno vita ai musei diffusi. Abbiamo voluto stipulare una convenzione con i frati minori per sostenere sia dal punto di vista economico che dal punto di vista organizzativo i due musei che rappresentano uno dei fiori all'occhiello del nostro territorio, vale a dire il museo missionario cinese, infatti a Sava insiste un museo di questo tipo e il museo di storia naturale. Lo faremo sia dal punto di vista economico appunto attribuendo delle risorse sia dal punto di vista organizzativo con la costituzione di un organismo composto da tre rappresentanti del comune e da tre rappresentanti dei frati minori che opererà per la gestione per la organizzazione delle attività all'interno del museo e dall'interno della biblioteca dei Francescani che insiste nella stessa area ovviamente in collaborazione con l'associazione Madre Terra che opera da anni e molto bene all'interno del museo e con le altre associazioni che vorranno affiancarsi e dare una mano.